È mia fervida speranza che da questo incontro prenda avvio un nuovo tempo di fraterna amicizia tra le nostre Chiese e oltre i dolorosi malintesi del passato per i quali chiediamo il perdono e la guarigione di Dio. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano il Patriarca della Chiesa Ortodossa Teuado di Etiopia, Abuna Mattias I. Nel corso dell'udienza il Pontificio ha ricordato gli incontri tra il Patriarca Abuna Paolos e San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, oltre a rimarcare una volta in più che tra i discepoli del Figlio di Dio sono più le cose che uniscono rispetto a quelli che separano. Esprimendo poi soddisfazione per quanto in Etiopia si sta facendo per costruire una società sempre più giusta, basata sullo stato di diritto e sul rispetto del ruolo delle donne, Papa Bergoglio ha infine ricordato che l'ecumenismo dei martiri è un invito a percorrere insieme il cammino verso un'unità sempre più piena. La vostra è stata una Chiesa di martiri fin dal principio e ancora oggi siete testimoni di una violenza devastante contro i cristiani e contro le altre minoranze in Medio Oriente e in alcune parti dell'Africa. Non possiamo esimerci dal domandare ancora una volta a coloro che regono le sorti politiche e economiche del mondo di promuovere una coesistenza pacifica basata sul rispetto recifroco e sulla riconciliazione, sul mutuo perdono e sulla solidarietà. Grazie a tutti.